Cosa contraddistingue un uomo intelligente da un uomo che si fa manipolare? La capacità di fare scelte dettate solamente dalla propria ragione, senza andare ad ascoltare quello che dicono le masse. Per questo motivo, quando così tante persone mi hanno chiesto di recensire Extract di Cavera di Platone, a seguito della mia recensione di Dead Shield di mangaka 96, beh io l'ho comprato subito. E devo dire, è arrivato anche in tempi abbastanza decenti, considerati gli standard delle poste italiane, e soprattutto del piego di libri, che a volte ci mette settimane, io lo so perché quando spisco il mio libro non arriva mai, o le postine se lo sciulano. E mentre lo leggevo c'era una voce preponderante dentro di me che mi diceva, Andrea, oggi non ti farai di nuovo amici. Però fortunatamente prima della fine del volume, il mio padre è cambiato, e tirando le fila, Extract di Domenico Vostefiere di Alfredo Postiglione, rispettivamente agli scritti e al disegno, ha lasciato su di me un'impressione molto positiva, sicuramente migliore rispetto ad altri manga italiani che ho letto recentemente. Sebbene ci siano alcune cose che non vanno, ma naturalmente nessuna opera è perfetta, e ora in questa recensione del vostro scrivacchino, andremo a vedere Luce e Ombre, del primo volume di Extract. Cominciamo parlando della storia di Extract. In un modo ipertecnologico viene inventato uno strumento, l'Extract appunto, che è un bracciale in grado di assorbire, far assorbire a colui che lo indossa, qualsiasi potere e conoscenza contenuta all'interno di un testo scritto. Quindi, per farti capire, se io tenessi in mano mi mento mori e attivassi il mio Extract, potrei ottenere la bellissima capacità di vomitare quando qualcuno mi sta per morire vicino. Così funziona letteralmente. L'utilizzo di questa tecnologia in modo sconsiderato ha portato il mondo a una serie di conflitti sempre maggiori che poi sono generati in un conflitto mondiale che ha portato il mondo a un oscillare post-apocalittico. Proprio a causa di questa tecnologia, in questo mondo post-apocalittico, ciò che ha acquisito molto più valore sono le riserve di sapere in forma testuale. Quindi letteralmente i negozi di manga e fumetti sono diventati fonte di potere e fonte di saggezza su cui si è basata la ricostruzione della civiltà negli anni a seguire. Ecco quindi che 1200 anni dopo, circa, troviamo i nostri temporionisti. Sono dei ragazzi che si allenano in vista di ottenere il proprio potere dal proprio Extract. Una specie di rito di passaggio verso l'età adulta per diventare dei guerrieri Extract. E da qui in poi si riparna la storia. Ora, per quanto riguarda il fumetto, stiamo parlando di uno show dei più classici, ok? Il world building, la caratterizzazione dei personaggi, non è male. Il partito del world building mi piace perché letteralmente se ti leggi Extract è come se ti trovassi di fronte alla parodia di Dragon Ball. Cioè, il protagonista che tiene i poteri e addirittura la prima cosa che deve fare è partecipare al torneo mondiale dei poteri che è praticamente il torneo Tenkaichi. Però ha senso. Cioè, non è solamente il lato parodistico che porta ad avere questa scelta di narrazione, ma ha senso perché se il mondo in questi anni è stato ricostruito proprio tenendo di conto dei manga come fonte di sapere, come fonte di potere, come fonte di saggezza, è chiaro che il mondo è stato plasmato sui canoni dei manga, quindi è perfettamente normale che ci siano questi tornei e che la società sia più vicina ai manga di quanto non fosse prima che succedesse il conflitto mondiale. Non è facile per me fare questa recensione per diversi motivi. Il primo è che devo riuscire a distinguere laddove il mio gusto personale potrebbe influire nel mio giudizio e laddove invece sono convinto ci siano dei veri e propri problemi tecnici. E i problemi fondamentali sono a mio parere nella costruzione della tavola e nel disegno, il che ovviamente mi pone in acque inesplorate per me in quanto di solito tendo a basare le mie recensioni sulla sceneggiatura e sulla costruzione della storia. Quindi comincieremo da questo e poi ci sposteremo sul disegno cercando di non pestare troppe cacche mentre lo faccio, però chiedo perdono nel caso dovessi farlo. C'è una cosa che temo per quanto riguarda il potere. Ora, è molto difficile gestire un potere all'interno di un fumetto o di un'opera in generale. Cominciando a parlare della storia, il primo appunto che voglio fare a Caverna di Platone è proprio sulla gestione del potere. Ora, non posso fare tanti commenti a riguardo perché ancora non ho visto l'opera completa, ovviamente. Stiamo parlando solamente del primo volume, tanto giudicare uno shonen dal primo volume è un casino. È come giudicare Dragon Ball dal primo volume. Ovviamente, extra dubito che avrà migliaia di capitoli, però comunque nel primo volume praticamente non si vede quasi per niente combattimento, quindi sarà interessante vedere come si evolve successivamente. Però il potere credo che sia molto difficile da gestire e Domenico dovrà fare attenzione nel corso della stesura della sua storia perché potrebbe esplodere tra le mani. Ci tengo a non fare troppi confronti con l'opera di Mangaka perché ogni opera dovrebbe analizzata come se stessa, non paragonandola all'altra. Però mi serve fare un confronto per farvi capire specifici dettagli che altrimenti sarebbe un po' troppo difficile da veicolare. Il potere di Extract è all'esatto opposto rispetto a quello di Memento Mori. Da una parte abbiamo il potere di vomitare quando qualcuno ti sta per morire vicino, da questa parte abbiamo un potere che praticamente trascende l'ognipotenza. Il fatto di poter ottenere la conoscenza e i poteri trascritti in un'opera testuale di fatto è un potere mostruoso. Di fatto è molto difficile da gestire perché il primo esempio che viene fatto all'Italia del fumetto è un esempio ironico, ok? Questo omone che per sbaglio si tramuta in una specie di Sailor Moon per carità. Però se ci pensiamo effettivamente quali sono i limiti di questo potere? Posso prendere un biglietto di fatto e scrivere Onnipotente e ottenerò questo potere qui? Oppure se prendo la Bibbia e uso l'extract sulla Bibbia divento Dio? Queste sono le domande che mi sono fatte ed è chiaro che applicare la razionalità e la ragione in un manga e prendendo uno show spesso non è l'opzione migliore per andare avanti. Spesso ci deve essere un po' di sospensione dell'incrudelità e tutto. Però è interessante forse determinate domande e la cosa che non mi torna tantissimo e che mi sarebbe piaciuto vedere spiegata e forse non è stato fatto per limiti di tempo forse verrà fatto in futuro è come questo potere una volta sviluppata la tecnologia una volta sviluppata sia andata a così tante persone da scatenare un conflitto su scala mondiale. Voglio dire la prima persona che mi dava questa tecnologia perché non l'ha utilizzata per diventare Onnipotente e controllare il mondo o forse c'è stato e si scoprirà nel manga successivo ma mi sembra strano che la tecnologia di questo tipo venga resa pubblica e magari non lo è stata però non è chiaro all'interno di Extract anche perché è letteralmente sgrava come tecnologia è come inventare la bomba atomica e dare alle persone. Spero che su questo punto ci sia un po' più di attenzione nel prossimo numero. Per quanto riguarda invece il problema tecnico del disegno di Extract a mio parere si trova nei balloon nella posizione dei balloon e nella costruzione delle tavole. Ora non ci sono abomini per quanto mi riguarda in quanto semplicemente grande lettore di manga non è che abbia questa grande conoscenza tecnica per quanto riguarda il disegno quindi io ho apprezzato i disegni che ci sono all'interno del volume. Ci sono però dei problemi tecnici per quanto riguarda la composizione delle tavole di cui voglio parlare. Dal basso della mia esperienza nel fumetto e quindi anche nel manga esiste una grammatica che va a determinare come si deve comportare in un certo modo la tavola. Va a determinare in che modo deve essere portata avanti la narrazione di vignetta in vignetta e tra le varie regole che comprende c'è anche quelle relative alla posizione dei balloon e il senso di lettura del fumetto. Nei fumetti occidentali compreso questo manga perché viene letto all'occidentale non viene letto da destra verso sinistra ma da sinistra verso destra il senso di lettura è sempre da sinistra verso destra come faremo normalmente con il racconto da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso quindi fondamentalmente è una linea che parte dall'angolo in alto a sinistra e si sposta verso l'angolo in basso a destra che io facendo così mi sa che voi l'avete visto al contrario tra l'altro l'angolo in alto a sinistra e si sposta verso l'angolo in basso a destra nei manga orientali è diverso in particolare nei manga giapponesi si trova appunto la lettura contraria quindi da destra verso sinistra anche se sto facendo un casino perché la mia destra e la vostra sinistra è un casino il problema di extract è che questa regola non viene spesso mantenuta spesso si vede dei balloon che si muovono da sinistra verso destra in uno stile di lettura occidentale altre volte si vedono dei balloon che vengono letti addirittura dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra quindi creando la stile lettura che invece di una freccia che va diagonale verso il basso da sinistra verso destra è una freccia che va diagonale verso l'alto da destra verso sinistra per alcuni questo problema è minore rispetto ad altri di fatto l'aspetto più importante di rispettare il senso di lettura è quello di rendere una narrazione scorrevole che permette di seguire il movimento naturale dell'occhio che fa il lettore in base alla propria cultura se tu questa grammatica la ignori o comunque la capovolgi più di una volta nel corso dell'opera quello che succede è che mi ritrovo a leggere Balloon che avrei dovuto leggere dopo e quindi il senso di discorso spesso viene confuso e sono costretto a leggere più volte la stessa vignetta per questo motivo ed è assurdo dirlo ho avuto più difficoltà a leggere questo volume di extract nonostante la storia mi interessasse di più rispetto a leggere Dead Shield perché Dead Shield uno dei pregi che ha per esempio relativi al disegnatore è che scorre benissimo la composizione delle tavole è fatta molto bene lo stesso non posso dire di extract ci sono delle tavole che non solo non rispettano il senso di lettura in questo senso quindi da sisal a sedesse dall'alto verso il basso ma vanno anche interrompere la linea visiva del lettore che cos'è la linea visiva del lettore quando un lettore passa da un Balloon all'altro leggendo dialoghi non è che spegne lo sguardo da un Balloon legge un Balloon spegne lo sguardo e lo riaccende sull'altro Balloon ma guarda tutto quello che c'è in mezzo da un Balloon all'altro per questo è anche importante capire dove mettere la posizione di Balloon perché se per esempio il Balloon viene posizionato a sinistra del personaggio andrà a dare più enfasi al Balloon se invece lo metti a posizione alla destra del personaggio la tensione del lettore si concentrerà maggiormente sul personaggio stesso il problema è qual è che passando da un Balloon all'altro è come se il lettore creasse una linea che va a percorrere tutto il manga tutta la pagina del fumetto dall'inizio alla fine e questa linea deve essere naturale cosa succede è che se te mi metti un Balloon che interrompe la linea quindi tra due Balloon successivi te mi ce ne metti uno e mezzo che non andrebbe ancora letto perché magari è successivo quello che succede è che la mia linea viene interrotta da questo Balloon e quindi mi blocchi la scorrevolezza la naturalezza della lettura e mi confondi in quanto lettore c'è un particolare caso che vi ho riportato ma questa confusione il fatto che l'occhio di tanto in tanto non sape mai dove debba andare come debba seguire la narrazione succede più di una volta all'interno del manga soprattutto nella prima metà si va un pochino a letturare dopo ma all'inizio è un po' un problema per me che è un aspetto tecnico e penso sia facilmente risolvibile non entrerò nel dettaglio di perché sia stato fatto in determinate circostanze magari talvolta può essere stato fatto per evitare uno scavalcamento di campo per altri motivi purtroppo non ho la conoscenza tecnica per riconoscere sta cosa ma semplicemente una piccola infarinatura per quanto riguarda la mia scuola di comics e semplicemente la mia cultura in quanto lettore mi fa percepire in modo sbagliato la composizione di queste tavole quando in realtà basterebbe poco per correggerle anche per quanto riguarda i disegni ho due piccole note mi sono piaciuti molto i disegni di Postiglione devo dire ho apprezzato veramente tanto lo stile perché è semplice in quanto shonen ma è dettagliato fatto molto bene mi piace un sacco c'è però un paio di scelte una scelta di stile che non apprezzo ma di cui non posso criticare perché è semplicemente un parere personale e una tavola in particolare che io trovo non corretta al 100% quello che succede che vedete in sua impressione è che a un certo punto il maestro dei protagonisti entra in questo tempo sacro per portare i ragazzi a fare la prova che devono fare ed entra in questo modo il problema qual è? è che a mio parere non so se è la prospettiva o se è la posizione delle gambe che sembra che l'uomo metta una gamba davanti all'altra quando l'uomo non cammina in questo modo perché si schiaccierebbe cojones mi dà estremamente l'idea che lui entri dicendo modello giuditta perché sembra molto una sfilata di modo tutto questo questo stile così non ho idea di come possa essere sistemato se spostando leggermente i piedi verso l'esterno così che sembra una camminata più naturale se non mettendo una gamba davanti all'altra se cambiano della prospettiva purtroppo non ho le conoscenze tecniche per poter fare questa valutazione posso solamente dire che l'impressione che mi ha dato di questo macione è quello di una modella sulla passerella l'altra cosa che mi sento di criticare ma è solamente un gusto personale in questo senso è l'introduzione di personaggi che sono caricature di persone reali palesemente credo una di queste sia Angelo Masullo tra l'altro che secondo me cozzano tantissimo lo stile di disegno e io capisco il lato parodistico capisco il lato ironico nel manga a un certo punto si vedono anche lo stesso caverne lo stesso disegnatore però è veramente un pugno nell'occhio vedere lo stile di disegno così diverso l'uno all'altro il problema di questa critica qui e il problema della critica del modello giuditta e l'elementuale critica su il fatto che il potere sia stato un pochino reso sbrigativo e ci sono tante altre domande che mi faccio sul senso logico tipo se la tecnologia è andata perduta e l'unica cosa è rimasta sono gli extract e si sono passati 1200 anni quanto durano effettivamente questi braccialetti oppure qualcuno ha preso il libretto delle istruzioni per costruire un extract e con un extract ha ottenuto la facilità di costruire altri extract non lo so sono domande perché per 1200 anni di abbracciare i tecnologi non credo che resistano però questo deve essere domande razionali domande basilari che a parte che possono non trovare posto all'interno della recensione di un manga in quanto ripeto la sospensione di curiosità altra volta è importante ma soprattutto io non riesco a capire quale sia l'intento dell'autore se sia quello di creare un manga shonen normale se sia creare un manga shonen parodistico o se sia creare una via di mezzo ovvero un manga shonen normale che però faccia l'occhiolino alle personalità del web faccia l'occhiolino alle persone che seguono caverna di protone e potrebbe essere questa via di mezzo il problema è che quando crea una via di mezzo è difficile capire quando una scelta sia voluta o quando ci sia effettivamente una mancanza a conti fatti il manga di Nico Guastafiero e di Alfredo Postiglione non è assolutamente male a pezzo molto che caverna si sia voluto cimentare in uno shonen un'opera un po' più leggera un'opera con dei chiari riferimenti ad altri manga piuttosto che provare a fare un'opera complessa basata sulla psicologia come potrebbe essere un death note come prima opera ci sta un buon punto di partenza su cui è possibile costruire ma è anche bene capire quando si sta rischiando di fare un passo più lungo della gamba le uniche critiche che mi sento di muovere sono effettivamente queste quindi la posizione di Balloon che rendono un pochino meno fluida la lettura che vanno un pochino a rompere le balle alla grammatica del fumetto e alcuni aspetti un po' sbrigativi per quanto riguarda la narrazione certo i dialoghi potrebbero essere migliorati però essendo i dialoghi uno degli aspetti più difficili da padroneggiare in assoluto nella scrittura e lo dico avendo scritto il libro ma comunque in generale creare dei dialoghi veramente realistici veramente che suoni naturali che portano avanti la storia è molto molto difficile quindi nonostante questo credo che Caverna abbia fatto un ottimo lavoro a proposito devo dire che mi sono incazzato molto durante la lettura per questa cosa di Balloon perché un altro aspetto che non ho sottolineato a un certo punto c'è lo spiegone e c'è una scena in particolare in cui il maestro fa una spiegazione cosa succederà in futuro del torneo delle minacce che devono affrontare e questa spiegazione viene fatta occupando quasi un'intera pagina con un wall of text un muro di testo infinito in cui vengono riportate tutte le informazioni ora da un punto di vista tecnico questo è un errore è molto meglio spezzare in più Balloon e rendere più scorrevole la narrazione magari facendo vedere anche le relazioni degli altri personaggi e tutto però ripeto non capendo veramente quanto il lato parodistico quanto il lato ironico sia permeante all'interno di quest'opera non posso capire se effettivamente questa scelta sia stata voluta per essere proprio un'esagerazione non se sia proprio un difetto di impaginazione valuterò quindi l'opera per come l'ho percepita come uno shonen leggero con dei toni che mi hanno ricordato Dragon Ball che mi hanno ricordato altri shonen che però fa qualche riferimento e fa qualche occhiolino qua e là per coloro che sanno coglierli ho riconosciuto anche qualche altro personaggio oltre a Masullo se credo se è lui e il mio parere complessivo rimane positivo ripeto se non è chiaro l'intento ironico o meno è facile che determinate scelte possano apparire come errori o che siano errori effettivamente quindi una maggiore attenzione per quanto riguarda la posizione dei balù nell'impaginazione e una maggiore attenzione per quanto riguarda la spiegazione di come viene gestito questo potere potrebbero giocare tantissimo in questo volume che comunque consiglio considerata la mia poca esperienza per quanto riguarda i manga italiani che sto recuperando in questo periodo devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso a differenza di Decil e non voglio continuare a fare riferimento a Decil ma è l'unica altra opera su cui mi posso basare di opere italiane ho letto molti manga giapponesi e altro questo è un manga che mi ha fatto incazzare durante la lettura ma a mente fredda ha cominciato ad apprezzare alcuni dettagli e giustificare alcuni errori come ho fatto in questa recensione Decil invece mi aveva lasciato niente durante la lettura più ci ripensavo a mente fredda più mi incazzavo penso sia questa la principale differenza devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso a parte tutto quello che mi ha fatto incazzare non è tanto la presenza di alcuni errori di impaginazione nessuno fa un'opera perfetta e soprattutto per essere una delle prime opere di questo autore è ben costruita è ben fatta ripeto fare un world building che sia giustificato dalla trama non è una cosa scontata quello che mi ha fatto incazzare è che per me certi errori di impaginazione e di senso di lettura sono palesi e mi sono chiesto ancora una volta perché non siamo stati corretti in precedenza ora la domanda è sempre quella quanto avrà interferito la casa editrice con la pubblicazione quali saranno stati i tempi di lavoro all'interno dietro questo manga perché magari se avevano un pochino più l'acqua alla gola non hanno potuto ricontrollare alcune cose non si sa purtroppo il processo dietro un manga rimane un mistero e trovare un colpevole per determinati errori sembra più facile dirsi a farsi sono curioso di leggere il secondo volume lo leggerò quanto prima appena avrò la possibilità non so se ci farò un secondo video dipende se ci sarà qualcosa che mi colpirà in particolare se il mio parere dovesse rimanere sullo stesso livello di questo primo volume non credo che andrò ad analizzarlo ulteriormente perché non avrebbe senso magari ci faccio un post un articolo o qualcosa però non spremiamo troppo la mucca caverna di platone perché d'altronde sono stato accusato pesantemente di sfruttare il nome di mangaka perché ho osato mettere il nome di mangaka nel titolo della sua recensione giustamente come quando fa la recensione di il mio verde di Stephen King ti non lo puoi dire che è di Stephen King altrimenti sfruttare il suo nome piccolo sassolino della scarpa che mi volevo togliere questo è il mio parere spero non aver offeso nessuno in particolare degli autori sono contento che ci si siamo buttati quello che vedo in questo manga è l'opera di una persona che comunque ne sa di manga che ha fatto una grande lettura che ha saputo scegliere un'opera a livello con la propria esperienza e da cui può costruire e creare qualcosa di meglio non è sicuramente da buttare può migliorare sicuramente a cui aspetti tanto però come primo mattoncino direi ottimo lavoro fatemi sapere cosa ne pensate come al solito vi ricordo il mio parere non è assoluto sono semplicemente un lettore a cui piace esprimere la propria opinione sono un profano potrei aver sbagliato tutto in questa recensione potrei non aver colto mille riferimenti magari la stessa retro copertina che si trova dietro la copertina potrebbe essere un riferimento al fatto che l'opera sia più ironica di quanto non traspaia all'interno del manga stesso però secondo me se questo era l'intento di renderlo particolarmente ironico e che giustificherebbe determinati errori secondo me andava un pochino più calzato questo aspetto se invece non era ironica allora determinati errori sono tali e andrebbero risolti grazie mille per aver visto questo video ci vediamo domani con un prossimo e presto con un'altra recensione come al solito vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i social dove mi potete bestemmiare contro per tutto quello che ho detto in particolare al gruppo Telegram dove potete unirvi alla nostra grande famiglia felice e al canale Twitch dove mi trovate in live così tutte le sere grazie mille per aver visto questo video buona 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 buona